nell'ultimo video ho parlato della crisi economica del 2007 e del 2008 come evento quasi di chiusura del decennio 2000 in realtà secondo me un evento quasi di pari portata non sul piano economico ovviamente che chiude il primo decennio del nuovo millennio e che segna anche una svolta storica nella politica americana e non solo è l'elezione di Barack Obama come presidente degli Stati Uniti d'America e oggi proprio voglio parlare dell'elezione presidenziale del 2008 negli Stati Uniti cominciamo Allora innanzitutto queste elezioni a differenza di quelle del 2004 sono considerate molto più incerte in quanto il presidente uscente il repubblicano Bush non può ricandidarsi e quindi entrambi i partiti principali democratico e repubblicano devono presentare candidati nuovi in più da parte per la prima volta dalle elezioni del 60 se non sbaglio il partito che esprime il presidente in carica non presenta un candidato appartenente all'amministrazione uscente infatti di solito quando un presidente in carica non può ricandidarsi perché è arrivato alla fine del secondo mandato un membro dell'amministrazione uscente ottiene la nomination del partito non sempre questo significa vittoria però appunto capita insomma capita praticamente sempre in questo caso negli anni precedenti di questa elezione alcuni avevano ipotizzato che il vice presidente di Bush di Cinei potesse correre per la nomination repubblicana o comunque per la presidenza ma proprio lo stesso vice presidente Cinei non disse che non era intenzionato a farlo anche per i propri problemi di salute dopo poco verrà trapiantato di cuore e quindi appunto dal 1952 scusate per la prima volta dal 1952 questa corsa presidenziale sarà tra due persone non appartenenti all'amministrazione uscente ovviamente il candidato democratico e il candidato repubblicano non sono gli unici due candidati alla presidenza ci sono anche partiti minori ma che in realtà non vengono quasi mai considerati in realtà non considererò nemmeno io in questo video comunque si possono ricordare tranquillamente il candidato diciamo i due partiti più grandi tra quelli piccoli negli Stati Uniti sono il partito libertario più a destra e il partito verde un po' più a sinistra in realtà questi due partiti comunque non ottengono grandi elettori e non hanno grosse speranze di ottenere molti voti quindi appunto non li considererò considererò solamente del candidato vincente Obama e quello repubblicano McCain l'incertezza di queste elezioni in realtà comincia già dalle primarie infatti sia nel partito democratico che nel partito repubblicano per l'epoca si candidano un discreto numero di persone nel partito repubblicano in realtà con una dozzina di candidati lo che all'inizio almeno sembra il più quotato è l'ex sindaco di New York Rudolf Giuliani molto ricco, molto influente molto amato come sindaco di New York gestì la crisi dell'11 settembre ma riportò anche New York a una situazione di law and order frase che poi un altro presidente Donald Trump userà anche a sproposito appunto Rudy Giuliani almeno all'inizio è considerato il favorito di queste elezioni primarie repubblicane altri candidati di spessore sono Mitt Romney che è l'ex governatore del Massachusetts e anche esso un esponente in vista del partito repubblicano e poi il senatore John McCain è un eroe di guerra aveva già tentato la corsa alla Casa Bianca nel 2000 ma venne battuto da George W. Blush però anche lui appunto moltissima esperienza poiché è senatore da tanti anni e avversario temibile per Giuliani un outsider fu sicuramente Mike Huckabee l'ex governatore dell'Arkansas e soprattutto un pastore ma insomma figura abbastanza controversa ma che almeno all'inizio nelle primarie ottene un discreto risultato mentre nel partito democratico il nome forte è sicuramente quello dell'ex first lady e senatrice Hillary Clinton Hillary Clinton ha una macchina da guerra dietro di sé guidata sicuramente dal marito Bill è considerata la strafavorita alla candidatura tanto che gli altri big in corsa tra cui l'ex candidato alle primarie ed ex candidato vicepresidente nel 2004 con John Kerry John Edwards si candida ma sa già di non avere molte speranze Joe Biden, senatore da oltre 30 anni tenta per la seconda volta la corsa alla Casa Bianca ma non ottiene risultati, finanziamenti e in più c'è in questa corsa si presenta Barack Obama Barack Obama è l'astronascente del partito democratico ha tenuto il discorso di apertura alla convention democratica del 2004 ottenendo grande successo anche per la sua pacità oratoria e ottiene un seggio al senato nelle elezioni di midterm del 2006 ed è appunto l'astronascente del partito democratico ma nessuno crede che possa riuscire a battere Hillary Clinton in queste primarie il 3 di gennaio del 2008 cominciano le primarie dei due partiti con i caucus dell'Iowa come tra la tradizione e già qui ci sono le sorprese infatti Mike Huckabee vince nel partito repubblicano e proprio Barack Obama vince nei democratici qualche giorno dopo l'8 gennaio ci sono le prime vere primarie in New Hampshire dove vincono John McCain altra sorpresa nel partito repubblicano e Hillary Clinton qua molta meno sorpresa in quanto ci si aspettava questa vittoria in realtà già da gennaio le sorprese arrivano soprattutto in campo repubblicano infatti Rudy Giuliani il grande favorito viene battuto subito emergono due candidati favoriti che sono John McCain e Mitt Romney con un terzo incomodo appunto Mike Huckabee che però ha problemi di finanziamenti Rudy Giuliani esce sconfitto da tutte le primarie si ritira già a gennaio soprattutto dopo la sconfitta in Florida dove pensava di ottenere un buonissimo risultato la Florida tra l'altro dava un numero molto elevato di delegati alla convention mentre in campo democratico la sfida oramai è a due Hillary Clinton e Barack Obama con John Edwards che fa da terzo incomodo ma in realtà si ritira dopo poco Hillary Clinton da grande favorita che era in realtà non riesce a sfondare è vero che vince in alcuni grandi stati come sicuramente la Florida però Obama tiene duro vince in Carolina del Sud e diciamo riesce a tenere testa Hillary Clinton che tra l'altro viene penalizzata in quanto la sua vittoria in due grossi stati come Michigan e la Florida non producono delegati alla convention in quanto erano state diciamo erano state sanzionate dal partito democratico questi due stati per aver anticipato troppo le proprie primarie il 5 di febbraio si tiene il Super Thursday in cui 20 stati tengono le primarie e da qui il partito repubblicano ha il suo candidato che è John McCain vince in quasi la metà degli stati e tutti quelli più con più delegati Acabee vince in 5 stati del profondo sud degli Stati Uniti Arkansas che dov'è stato governatore Alabama, George, Tennessee e Virginia Occidentale stati molto conservatori Mitt Romney vince in 9 stati ma piccoli quindi diciamo è proprio Romney a consegnare la nomination repubblicana a McCain perché si ritira decide di ritirarsi e decide anche di appoggiare McCain se per il partito repubblicano la corsa alla nomination si chiude di fatto il 5 di febbraio col Super Thursday nei democratici in realtà le cose vanno per le lunghe infatti Obama e Clinton pareggiano vincono Obama in 13 stati Clinton in 9 ma a livello di delegati sono più o meno pari Hillary Clinton era in leggero vantaggio su Obama nel numero di delegati circa 1200 contro 1000 però considerando che ne servivano 2000 per ottenere la vittoria oltre 2000 per ottenere la vittoria appunto si poteva parlare di pareggio la svolta in campo democratico si ha quando si arriva nelle primarie nella zona del Potomac quindi Virginia Maryland e lo stato di scusate la città di Washington Washington DC in questo caso con la vittoria schiacciante di Obama si ha un superamento proprio di Obama nei confronti di Clinton nel numero di delegati e da qui la appunto la figura di Obama inizia a farsi molto prepotente in in campo democratico tanto che la Clinton deve anche ricorrere a spot pubblicitari abbastanza aggressivi nei confronti del rivale però appunto con l'avanzare delle primarie con l'arrivo del mese di marzo e grandi stati come ad esempio il Texas Rhode Island che danno un buon numero di delegati allora innanzitutto grazie a queste primarie e la vittoria in questi stati McCain ottiene anche matematicamente la nomination repubblicana cosa che non era più discussione da un po' ma in quel momento ottiene anche il numero minimo di delegati repubblicani ovvero il 1191 la Clinton rientra abbastanza in gioco perché riesce a superare Obama anche il numero di delegati quindi guadagnare qualche delegato su di lui però appunto con col mese di marzo con l'andare avanti del mese di marzo è oramai chiaro che sarà Obama ad ottenere la nomination il problema per il partito democratico è che una lotta intestina tra i sostenitori di Obama e i sostenitori di Clinton non fa bene ai sondaggi tanto che se prima dell'inizio delle primarie la vittoria del partito democratico era scontata il partito repubblicano si sta facendo sotto anche forte del fatto che McCain può iniziare la propria campagna presidenziale a marzo mentre la preoccupazione dei dirigenti democratici è che le primarie vadano avanti fino a luglio con addirittura lo spettro di una convention aperta in cui bisogna scegliere un candidato proprio in quel momento quindi perdendo di fatto quattro mesi di campagna elettorale nei confronti di McCain le primarie vanno avanti con i due candidati democratici che sostanzialmente pareggiano tutte le varie primarie che si hanno fino a che non si arriva al all'inizio di giugno quindi con tre mesi di ritardo rispetto a McCain in cui Obama riesce ad ottenere i i delegati necessari per avere la maggioranza alla convention tanto che diciamo questi risultati spingono Obama a richiararsi vincitore anche se Hillary Clinton non si ritira ufficialmente dalla corsa arrivati alla fine delle primarie quindi abbiamo un partito repubblicano con John McCain candidato ufficiale mentre partito democratico con Barack Obama con la maggioranza dei delegati alla convention democratica ma Hillary Clinton determinata a dare battaglia le due convention nazionali si tengono per quanto riguarda quella dei democratici a Denver tra il 25 e il 28 agosto del 2008 per quanto riguarda quella dei democratici dei repubblicani scusate a St. Paul dal primo al 4 di settembre del 2008 e proprio queste convention danno l'ufficialità dei due candidati John McCain viene incoronato candidato repubblicano Barack Obama viene candidato candidato democratico e per la prima volta uno dei due maggiori partiti ha un candidato di colore tra le proprie file per la seconda volta in realtà uno dei due maggiori partiti avrà un candidato donna come vicepresidente infatti pochi giorni prima della convention i due candidati ufficiosi dichiarano chi saranno i loro candidati alla vicepresidenza e se da un lato Barack Obama decide di puntare su Joe Biden senatore ultra esperto dei meccanismi della politica americana e di politica estera soprattutto poi sarà l'attuale presidente americano John McCain sceglie Sarah Palin Sarah Palin è un'ultraconservatrice dell'Alaska con un passato abbastanza particolare ma che viene scelta appunto da John McCain per attrarre tutto quel mondo ultraconservatore dell'alt-right americana che non vedeva con favore la figura di John McCain che era sì repubblicano ma era un repubblicano abbastanza tipico per quanto riguardava diciamo il come posso dire il concetto di repubblicano tipico la campagna elettorale quindi entra nel vivo John McCain e Barack Obama nel mese di settembre nel mese di ottobre danno vita a tre dibattiti televisivi vinti tutti da Barack Obama che è indubbiamente molto dotato dal punto di vista molto meglio molto meglio di John McCain da questo punto di vista il dibattito tra i due vicepresidenti quindi tra Joe Biden e Sarah Palin finisce in pareggio in realtà Joe Biden è famoso per le sue gaff si arriva quindi al giorno delle elezioni il 4 di novembre del 2008 tutti gli americani sono chiamati al voto e per la prima volta nella storia una persona un afroamericano una persona di colore ottiene la presidenza degli Stati Uniti infatti Barack Obama riesce a vincere anche meglio di quanto prevedevano i sondaggi ottiene 365 grandi elettori rispetto ai 173 di John McCain ottiene quasi il 53% del voto popolare e quasi 70 milioni di voti dai cittadini americani il risultato è chiaro da subito John McCain telefona immediatamente e si congratula con Barack Obama e fatto abbastanza raro sia il discorso del vincitore quindi di Barack Obama che soprattutto quello dello sconfitto John McCain rimangono agli annali infatti John McCain tiene un discorso molto sentito molto appassionato in cui chiede riconciliazione chiede di supportare il presidente quello che da quel momento è dal 20 gennaio 2009 in realtà sarà il presidente di tutti anche il suo e quindi offre collaborazione ma lo fa in maniera molto meno scontata di quanto di solito non facciano i candidati sconfitti la presidenza di Barack Obama poi comincia dopo il periodo di transizione dopo l'ufficializzazione dei risultati dopo la votazione dei grandi elettori il 20 gennaio del 2009 a mezzogiorno come prevede la costituzione americana e da qui cominciano gli otto anni della sua presidenza che saranno segneranno poi il secondo decennio del del nuovo millennio ma la sua elezione chiude un cerchio se il appunto il decennio era cominciato con nuove speranze scusate non solo un nuovo decennio un nuovo millennio con nuove speranze che venivano subito messe a dura prova dagli attentati dell'11 settembre poi appunto come ho parlato nello scorso video la crisi economica del 2008 l'elezione di Obama porta una grandissima speranza anche perché è una persona più giovane di Bush ad esempio ma è una persona nata negli anni 60 quindi non è più il baby boomer nato alla fine della guerra come erano stati gli ultimi presidenti americani Clinton e Bush è una persona afroamericana è una persona di colore quindi porta anche diciamo alla ribalta le istanze di tutto un mondo che è stato proprio negli Stati Uniti ma non solo segregato schiavizzato denigrato discriminato per secoli questo è proprio fa rifiorire un sentimento di speranza non solo nella politica americana in realtà anche tutti i movimenti per i diritti civili sparsi in giro per il mondo traggono forza da questa elezione e appunto comincia questa nuova era la casa bianca che si concluderà poi nel 2016 con l'elezione di Donald Trump ma questa è un'altra storia bene spero che l'ultimo video sugli anni 2000 vi sia interessato vi sia piaciuto e noi ci vediamo una prossima volta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti